I partiti minori contestano l'intesa tra Renzi e Berlusconi sulla riforma della legge elettorale. Voi la criticate perché? Noi riteniamo che finalmente abbiamo una legge elettorale su cui discutere. Questo è un passo avanti positivo. È chiaro che la legge elettorale proposta ha delle criticità, ma penso che l'Aula debba modificarli. Due sono i temi negativi al nostro modo di vedere. Va bene da un lato un premio di maggioranza da attribuire del 15%, ma non a una coalizione che parta dal 35%, troppo poco. Dal 35% il 15% significa un incremento dell'80%. Noi dobbiamo parlare di coalizioni che almeno abbiano il 40%. La seconda questione è la preferenza. Il rischio è che venga fuori un porcellum mascherato e noi dell'Italia dei Valori abbiamo raccolto le firme per eliminarlo. Se si vogliono fare le primarie, tanto vale prevederle direttamente nella legge, non dire blocchiamo le liste e poi le primarie ognuno le fa. Ecco, queste sono le criticità. Accanto però a un fatto positivo che ribadisco, finalmente dopo sette anni almeno parliamo concretamente di una proposta di legge elettorale.